ciao a tutte ciao a tutti allora il brano che vedremo oggi è acquazzurra acqua chiara di lucio battisti vi ricordo che trovate il link per scaricare sia lo spartito che l mp3 e l'altra cosa molto importante è iscrivetevi al canale così potrete seguirci e essere aggiornati su tre le novità le prossime uscite video che faremo allora il brano è un pezzo storico della musica italiana come ti ho già detto negli appuntamenti precedenti quando si parlava ad esempio della mia banda suona il rock abbiamo uno spartito che ha scritto molto bene ma lascia anche margini diciamo di interpretazione se noi poi vedrete io vi farò un'esecuzione a modo mio un po diciamo più ricca di quella che è la scrittura che troverete nella parte e cosa succede quando io sono in questo tipo di brani cerco di essere in sintonia con quello che suonano gli altri che è una cosa molto importante quindi mi appoggio alla batteria e cerco di suonare insieme alla ritmica anche perché facendo la chitarra ritmica sono parte di quel mondo insomma adesso andiamo a vedere le parti salienti del pezzo se qualcuno di voi ha uno schermo abbastanza grande o la vista acuta potete guardare nello spartito che vedete qua da parte vedrete che il brano inizia con una serie di ottavi spieghiamo perché magari lo do per scontato ma è importante che questa scrittura che vedete con queste note un po allungati quasi trapezoidali le note che sono riportate sul pentagramma non sono note intese come suoni ma sono riferite all'accordo che vedete sopra quindi vedete il brano inizia con una d che è un re maggiore e questo bra questo accordo si vuole venga suonato così dove i quarti sono qua ci fu divisi in due quindi si può scegliere di suonare con la pennata alternata mettendo il battere sempre verso il basso e levare verso l'alto oppure per dare un po più spinta suonando tutto diciamo in giù brutalmente ok adesso io vi ho suonato la prima riga e l'uscita in levare e da adesso in poi vado a vedere i punti salienti le parti un po più difficili del brano quindi alla battuta 4 dove c'è sol la sol abbiamo un quarto puntato e poi una serie di accordi un imbattere un in levare un imbattere un in levare questo suona così ok rispetto al battere che ho fatto con la mano molto interessante è eseguirli rispettando la pennata alternata in modo tale da avere questa cosa ok questo perché io posso fare una sorta di solfeggio con la mano sullo strumento e questo mi aiuta a non sbagliare in realtà la cosa migliore sarebbe percepire questo ritmo e sentirlo e poi suonarlo liberamente però in una prima fase vi consiglio se non siete così robusti ritmicamente vi consiglio di provare questo metodo cioè magari anche proprio di scrivervi sotto la parte cercando di scomporre il quarto e l'ottava di capire dove cade l'accordo e poi posizionarlo insieme alle pennate quindi uno e due e così facendo sol la sol la ok se avete problemi con i barret siete ancora all'inizio potete fare sol la ok ecco la cosa bene andiamo avanti poi non ci sono altre cose particolari fino ad arrivare alla battuta 11 2 3 14 si minore lì vedete un segno di dinamica ottavi che crescono cioè significa questo che si parte da una dinamica bassa per arrivare al volume che poi teniamo durante l'accompagnamento qualche battuta dopo in particolare alla 18 c'è una sequenza di 3 accordi che vanno un attimino capiti c'è un fa diesis che fa un quarto e c'è questa cosa qua anche qui se noi rispettiamo la pennata alternata rigida pensata sedicesimi abbiamo questa cosa qui che velocità diventa non ci sono altre cose particolari quindi facciamo re un la battuta 21 sol la ripetuto e poi arriva una simpatica battuta da due quarti con un gruppo irregolare una terzina con l'accordo di sol beh questo se ascoltate la bar la cosa migliore ascoltare poi la base e capite come fare la scansione in ogni caso da parto due battute prima ve la faccio sentire ok e da lì in poi il brano va via liscio non ci sono cose particolari l'altra cosa che io farò e guardate l'esecuzione quelle nelle sequenze fa diesis sol la non cambierò mai forma dell'accordo sceglierò una forma di bar e questa derivata dalla forma di mi e farò fa diesis sol e la lo trovo molto più comodo in uscito potete scegliere se fare questo re al quinto tasto oppure tornare a casa e fare il re normale ok vediamo l'esecuzione del brano 1-2-3-4 2-3-4 2-3-4 3-4-4 3-4-4 3-4-4 3-4-5 4-5 4-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 6-6 5-6 6-6 6-6 7-6 6-6 7-9 7-9 9-9 9-9 10-9 10-9 10-9 10-10 12-9 11-9 11-9 11-9 12-9 Grazie a tutti. Grazie a tutti.